Buongiorno signor Gianluca, che cosa sono per lei le emozioni nel lavoro? La prima cosa è arrivare a fine mese, secondo dipende dal lavoro che uno fa, ci sono tante cose, non so come dire, ci sono dei pro e dei contro. Per esempio? Per me ci sono dei pro, tante soddisfazioni, soddisfazioni professionali e crescere, crescere professionalmente, poi dipende da ognuno di noi che tipo di lavoro fa. E i contro quali sono? I contro possono essere dei diverbi con dei colleghi, incomprensioni varie, queste cose qua, niente di più, niente di meno. Va bene, la ringrazio.